Lo svolgimento di una equazione. Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti, aprile 1977 e non 76. La fonte preziosa, a cura di Luciana Campanisetti, Kempis. L'istintiva reazione che avete di fronte ad una verità che vi crea problemi di comprensione, o l'ede il vostro io, è quella di respingerla con l'incredulità. Vi è un grandissimo numero di persone che non credono alla sopravvivenza, perché il credervi porta, per opinione comune, al rispetto di un codice etico-religioso, che costituisce una sorta di remora ad un certo loro comportamento. Perciò si difendono col non credere. Dobbiamo riconoscere in questo atteggiamento una coerenza di fondo che non riscontriamo in altri. Noi non vogliamo convincere nessuno che quello che diciamo sia vero è afferrabile da una serie di considerazioni, l'una derivante dall'altra, che partono da molto lontano. Il discorso che facciamo è come lo svolgimento di una equazione o di un sistema di equazioni. Se salta un passaggio, salta la soluzione. È un discorso che ha un senso compiuto. Non se ne può accettare per vera una sola parte. Se giusta è l'impostazione, vera e giusta è la soluzione. Vera e giusta è la conclusione. Voi già conoscete lo sviluppo del ragionamento. Se lo ripeto questa sera a conclusione di un argomento che ci ha tenuti impegnati per molte riunioni, è per trovare un nuovo modo di esporlo, sì da renderlo comprensibile a quelli di voi che ancora non lo avessero compreso.